Uomo di mestiere, l'intellettuale ha coscienza della professione che deve assumere. Riconosce il legame necessario tra la scienza e l'insegnamento. Non pensa più che la scienza debba essere tesaurizzata, ma è persuaso che debba essere posta in circolazione. Le aule sono laboratori dai quali si esportano le idee, come merci. Nel cantiere urbano il professore affianca, in uno stesso slancio di produttività, l'artigiano e il mercante. Possiamo concludere che non è un caso se all'attenzione del governo di Siena per i valori del territorio e per la sua documentazione corrisponde, presso i pittori del tempo, un profondo interesse visivo per l'ambiente abitato dall'uomo e in una vivissima curiosità per il paesaggio assegnato dall'attività umana, perlustrato dall'occhio e restituito con una fedeltà che non ha riscontro altrove in questo periodo. Non è un caso dunque che gli esempi più maturi della pittura di presagio trecentesca si trovino su due facce di una stessa parete del palazzo pubblico. Nella prima metà del Trecento il gotico Siena non dà luogo solo opere squisite, preziose e di piccolo formato, ma anche a idee grandiosi e audaci come il progetto di raddoppio della più grande cattedrale e a tecniche prestigiose e innovative come lo smalto traslucido, con cui grandi orafi raggiungono una qualità sublime, spesso in anticipo sugli esiti dell'arte monumentale. La nuova sensibilità naturalistica dei pittori senesi e il realismo oggettuale di Giotto trovano corrispondenza nel pensiero del tempo, col quale incomincia a farsi strada gradualmente l'idea di tornare a considerare il mondo per quello che appare ai propri sensi e a rivalutare l'esperienza. La nuova sensibilità di Giotto La nuova sensibilità di Giotto